E' una bella tiktoccata, direi. E' una bella tiktoccata, direi. Che sta succedendo? Ok. Siamo parole in italiano che io odio. No, ma perché io ora sono? Io voglio andare nella mia for you page, posso? Biologicamente esistono solo uomo e donna, lo dice la scienza. Charlie! Non è ora il momento. La mia opinione è che il caffè fa schifo. Volevo mettere uno schermo intero. Posso mettere uno schermo intero? Vabbè. No, ok. Non me la caso. Sì, tolgo la musica, ragazzi. Avete perfettamente ragione. Avete perfettamente ragione. 20 mila euro. Se vuoi levare le tasse, facciamo 15 mila euro. 16 mila, facciamo 16 mila euro. Io avevo fatto il patto con mio fratello che mi prendeva il 60 e lui il 40. Ok. Quindi di 16 mila euro sono 10 mila euro. Sì. Agli altri due fratelli ci dobbiamo fare un regalo, una migliorata d'euro. Certo. Siamo se la prendo, Roberto. Quindi io me ne vado a casa con 7 mila euro. 7 mila euro. Con 7 mila euro. Balsa la pena. Per 7 mila euro. Con 7 mila euro. Allora, ragazzi, spoiler, senza ci vediamo 4 minuti di video, a 20 e 75 mila euro. È un petto di pollo farci. Ragazzi, ma a me cosa cazzo mi esce nella 4YouPage? Ciao. Ciao. Scusate, qua non c'è il prezzo. Qualcuno ve lo ha cambiare. Sì, sono gli assermenti interni perché la signora qui... Ma le volevo chiedere che... Scusi. Ciao, Anna Maria. Sto parlando io due cose insieme e non le posso fare. Qui. Sta come sotto le feste. Siamo tutti un po' esauriti. Signora, scusi, sto servendo la signora. In fila, grazie. Allora, sono ben 56 euro. Allora mi piace tantissimo. Tra l'altro, raga, loro... Cioè, questi qui, non so cosa... Hanno una casa folle, raga. Cioè, hanno una casa fighissima. Cioè, guarda. Cioè, guarda. Amichetti miei, guardate. Ma perché ogni tanto mi si bug così TikTok? Vabbè. Cioè. Questo è il soffitto di casa loro, raga. Questo è il soffitto di casa loro. Ed è greve questa cosa, ragazzi. Ci andiamo ad asciugare. E c'erano tipo i dipinti, cioè... No, vi devo trovare una casa tipo dove fanno i balletti, raga. Si vede la casa dietro. È fighissima. Eccolo. Cioè, questo è casa loro, raga. Questo è il salone. Questo è il salone mio. Cos'è sta vita? Questo è il salone mio. Questi c'hanno una cappella sistemi... Gli ha fatta Michelangelo, zi. Folle. Quante volte pensate... Ma io devo giudicare la M4U peggio, ragazzi, eh? Ma possiamo parlare di che cazzo di ficata è il pop punk? No. Rispondo a un po' di domande sugli iPad di Caterina e Tommaso. Se dovessi scegliere... Passo. Ero Sara Mazzotti. Neck. Neck. Neck Filippo Giovanni. Oriano Celentano. Eh sì. Eh, non vedo. Liga 2. Ah, l'avevo detto, eh. Eh, San Giovanni. Passo. Vasco Rossi. Vasco Rossi. Albano. Albano Carrisi. Blanco. Max Pezzali. Sì, Max Pezzali, confermo. Fedez. Claudio Baglioni. Claudio Baglioni. Zucchero. Zucchero. Eh, Antonello Venditti. Gigi D'Alessio. Massimo Ranieri. Se bruciasse la città. Eh, Renga. E Donato Renga. Francesco Renga. Eh, Morgan. Passo. Eh, no, non la conoscevo. Eh, era andato a zero, sì. Vabbè. Oh! Solo una! Solo una ne ho persa, vorrei dire, eh. Vorrei dire. Sei un fan di Nicky? Cosa? Questa villa non può essere. Ma posso fare una domanda? Voi uomini, guardate i reposts che ne facciamo su TikTok. Sempre, in realtà. Solo che continuo ad avere paura. Ecco qua. Cos'è, cos'è? Quanto diventano 100.000 euro fatturati a Dubai? Dimmi subito, fratto. 91.000 euro. A Dubai abbiamo una corporation tax del 9%. A Cipro? 87.500, le società pagano il 12,5%. In Lituania, 85.000, la corporation tax è del 15%. In Italia, 40.000, poiché le società pagano il 60%. Le società. Io, partita io forfettaria, il 30. Sempre una merda, però lo stesso. Quanto... E' uscito, regà. E' il ragazzo di Sne Channel. Allora, regà. Tutorial e riflippa la Bieber. Non vi la fa oggi, eh. Allora, regà. Tutorial e riflippa la Bieber. No destra verso sinistra. Non solo destra. Diagonale. Dal basso verso... Diagonale. Ok. Poi mano sui capelli. Mano sui capelli. Sorriso di Sne Channel. Il pupo. Il pupo. Assolutamente il pupo. Vediamo in For You. For You. Buongiorno a tutti. In questo video fa... Ma questo non mi è mai uscito in tutta la vita. Ma chi cazzo è? Allora, ho appena scoperto questa cosa che mi ha... Scusate. Oggi dal cinema è sci... Che figata questo. Eh, posso dire, è uno dei miei sogni. C'è chi dice che le Adidas per... Bellissima se scarpe tra l'altro. E no, qualcuno aveva scritto prima di fare la... I quiz. I quiz ci stanno. Quiz canzoni. Allora, quiz. Uh... Ok. Me l'accollo. Me l'accollo questa. Facciamo i più popolari. Indovina i personaggi di Mario Faria dalla voce. Purtroppo lo vincerei. Questa cosa mi fa star male. TikTok manda di andare a noi nel forum. È già uscito il video. Ok. Scusatemi. Sto cambiando il titolo in... Sono stupida ma va bene così. Perché alla fine va bene così, ragazzi. Veramente. Allora, indovina 100 film che canta. Eh... Facciamo i 100 cantanti così vediamo se sono forte. No, no. Già è stato registrato. Ehi! Giovanotti. Grazie. Sfera e basta. Sfera e basta. Grazie. Achille Lauro. Vabbè, ma che è? Achille Lauro. Emma Marrone. Emma Marrone. Mi madre, oserei dire. Ultimo. Il Brontosauro de Presto de Ultimo. Rove, la Provence. Rove, la Provence. Rove. Max Pezzali. Ma, raga, Max Pezzali a me terrorizza. Non so perché mi fa paurissima. Anna-Lisa. 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 Daie. Blanco. Non sono felice che sia anche a voi. Grazie. Mi faccio sentire... Eh... Giussi Ferreri. Mi fate sentire meno sola, ragazzi. Sono felice di questo. Coez. Coez. Tananai. Tananau, duettami, tananau. Adriano Celentano. Adriano Celentano. Non è regalato l'album K-pop, per me giuro, mi fa pensare. Baby K. E yo. Baby K. Sono giovane. Quindi so queste cose. Capoplazza. Raffa. Raffaella Carrà. Raffaella Carrà. Irama. Irama Plum. Irama. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Ah, quella che assomiglia a me. Levante. Hanno detto che assomigliavo a lei ogni tanto. Eh... Shade. Shade. Mmh. Mi sveglia ancora. Cagata Alessandria Amoroso. Alessandria Amoroso. Dovevo speed rannarla questa. Mahmood. Volevi solo soldi. Eh... Rocco Hunt. Rocco Hunt. Noemi. Noemi. Francesco Cabani. Francesco Cabani. Gigi D'Alessio. Madonna, Gigi. Ma che hai fatto in questa foto? Ariete. O anche conoscevo Martina che noia. Ariete. Fedez. Zedef. Tutto, tutto al contrario. Ah, porca troia. Ah, porca troia. Andrea Bocelli. No, vabbè, non mi veniva. Ercomi. Ercomi. Cavolo. Stavo in streak. Liga Bue. Luciano Liga Bue. Non confondere con l'altro Liga Bue. Questo è Fabri Fibra. Fabri Fibra. Vabbè, ragazzi, ma lo sto platinando. Neck Filippo Giovanni. Neck. Francesco Renga. Francesco Renga. Fred De Palma, cazzo, è vero. È vero. Mara Sattei. Olsono e Sara Mattei. Mara Sattei. Giannone Morandone. Manone. Lui. Gue. L'occhio guercio come gue pequegno. Arisa. Madonna raga, quell'intervista di Arisa. Forse era l'uomo ragno. Che poi chi l'ha ucciso l'uomo ragno? Zucchero. Zucchero. Ah, Zucchero, è giusto. J-Hax. J-Hax. Madame. Madame. Grazie. Elisa. Elisa. Zucchero. Ah, oddio, questo mi sta sul cazzo. Nina Zilli. Mi sta sul cazzo. Non so perché. Clementino Iena. Clementis. Pacca e vetrina. Cracca e vetrina. Maccarone e vino. Paccaro e regina. Non so chi cazzo sia questo. San Giovanni. Ah, Cremonini. Rosa Chemical. Sto platinando questa cosa, eh. Gali. Quanto dura ancora? Minchia. Tre cinque minuti. Perché sono ancora su Discord. E oh, lui è Claudio Baglioni. Prima l'avevo azzeccato. Vabbè, tanto sono mutata. Che mi frega. E Joliet. Giorgia. Cazzo, quelle erano. Si uscite tutte tra un po'. E questo è... E ah, Pachi. Caparezza. Ma tanto poi spengo il PC. Quindi alle brutte. Albano. Eh, mi schicchi. Chi la vaffanculo agli impostori. Sempre in mezzo ai coglioni. E Laura Pausini. Albano. Laura Pausini. Marrakesh. Elio. Di Elio le storie tese. Elio. Francesca Michelin. Probabile opener di Taylor Swift a Milano. Io ci credo. Ernia. Ernia. Morgan. Oh minchia, ci sbrighiamo però! Mischeta. Mischeta. Max Gazet. Max Gazet. Lazza. Z-Z-Z-Z-Z-Zala. Lazza. Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. Ragazzi, li sto di tutti. Oh, Gem. Gem. Gemitites. Davide. Ah, vabbè. Non sei una signora. Le dà una per te. Anna. Eh, Tildo. Ho messo i mod oggi. Non sei imboccata. Le date tutti. Renato Zero. Renato Zero. Che cazzo è questa? Bianca a sei. Mai sentito in tutta la mia vita? Salmo. Salmo. Eh, vabbè, allora è ovvio che non ti ho messo a me. Elodie, mia madre. Elodie. Pino Daniele. Pino Daniele. Minchia, Pupo. Eh, sì, vabbè, Luque. Cristina D'Avena? Cristina D'Avena. Ciao, Tilde. Vasco Rossi. Ecco, Vasco Rossi pure come Max Pezzali. Mi mettono ansia. Piero Pelù. Piero Pelù. Chi è questo? Mostro. Minchia, quanto è cambiato? Boh, Samore Bersano. Ah, sì! Gianna Nannini, cazzo. Mr. Rain. Mr. Rain. No, la mia idea di chi sia. Neffa. Ok, bomba. Ma chi è sta gente? Ah, Patti Bravo. Shiva. Free Shiva. Shiva. Antonello Venditti. Grazie, Roma. Che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Quell'infame fracico de Garbrave. Ernoiz. Noiz Narcos 79. Frasca. Quell'altro infame dei giornalisti. Francesco. Tommaso Paradiso. Francesco. Eh, Madman. Eh, me! Eh, ragazzi. No idea. Neanche farò finta. Ok. Non so chi sia. Fabio Rovazzi? Fabio Rovazzi. Beh, conta come cantante Fabio Rovazzi? Non so chi sia. Marcio, mondo marcio. Ho visto rcio sul braccio. Ah, questo è quello gnoccone di Marco Mengoni. È Franchino, 126. Franco, 126. Tedua, duate. Tedua. Gazelle. Madonna, ma che foto gli hanno preso? Flavietto. Commenta quanti cantanti hai indovinato. Amo tutti. Cioè, tipo, cinque non ho indovinati. Nessun grado di separazione. Francesca, sei bellissima. Dai, tipo cinque non ho indovinati. No, dai sei. Sette, toh. Sono fiera. Indovino il personaggio. Rosa Ricci. Mi ha fatto ridere. 97 su 100. Erano 100? Quanti anni ha Rosa Ricci? E... E... Quale fa? Indovina la canzone dei primi cinque secondi. Mi devo allenare qua. music quiz. Eh, tosta questa, eh. Più che altro che solo cinque secondi per indovinare. Oh, raga, mi tenete i punti? Titolo esatto, due punti. Cantante, due punti. Titolo più cantante, cinque punti. Segnatevi queste informazioni, ragazzi, eh. Voglio che qualcuno mi tena le tracce dei punti. Mi tenete le tracce dei punti, giovani? Che io sarò. Mi tenete le tracce dei punti? Bet? Eh, bet su cosa? Se fai più o meno di 15? A mo, ma... Cioè, basta che zecco tre volte cantante e cosa. Su 15 minuti di video spero di farcela. No, dai, sti cazzi. Niente bet. Bet se sono bellissima. Sì o no? Cominciamo. Soldi, Mahmood. Ho superato le onde di un mare. Boh, Max Gazet. Non solo sul titolo. No, come cose. Ho sgarato. Max Gazet, ho detto, minchia. Questo è Madame. Madame non ho più paura, se non sbaglio. C'è stata l'eccezione. L'eccezione, forse. L'eccezione di Madame. Oh, l'ho detto, eh. L'ho detto, l'eccezione di Madame. C'è stata l'eccezione delle regole del mondo. Sono fuori di testa, ma diverso da loro, dei Mane Skin. Zitti e buoni, ecco, com'era. Vabbè, Mane Skin, due punti, eh. Segnate. Eh, lo dì. Non so a cosa. Ma dai, per forza lo dì, dai. Ok. San Giovanni. Boh, farfalle, quelle conosco. Oh, farfalle di San Giovanni. Scusa, ho messo un alert? Ah, merda, perché non l'ho messo qui. C'era un cipi-cipi-ciapa-ciapa? No, mi è stato un cipi-cipi-ciapa-ciapa. Ti chiedo scusa, frate, ma... E' un cipi-cipi-cipi-ciapa. ... redes HJsshiro e un cartempo. Anche se il nostro tempo sarà pure per te Ma nel tempo ho un barrio Per dire lo saro che hai lasciato dentro di me Vabbè Dai Dai No mo ci sono da una coltellata Ben si dà un sorriso Tananai Abissale Non ho la minima idea di nessuno dei due Immortale il titolo Te lo troppo così No Caparezza non avrò ascoltato una canzone Tipo Boh dalla voce mi sembra Annalisa Ma non so La canzone Però era Annalisa Oh segna due punti eh Non so chi sia questo Proprio zero Vabbè Perdonatemi Giovani wannabe Dei pingüini tattici nucleari Dei pingüini tattici nucleari Ma che cazzo era questa cosa Mai sentito raga Boh Marco Mengoni Marco Mengoni Marco Mengoni Due punti Grazie Dams Un bacione Un bacione Eh Mr. Rain Qualcosa Non lo so Bambini Non ha fatto una canzone tipo Si chiama Bambini No però vabbè La stiamo Mr. Rain L'avevo detto però eh Quindi due punti Un caso Tre moto Oddio Rove Shakerando Scritto male Scritto male Shakerando Eccola eh Ah The Weekend Ma non so cos'è Però è The Weekend sicuro Di H Weekend No zero Non ho la mia idea Di chi sia questa cosa Proprio zero Oh i copacose stasera Non sono miei proprio eh Ma neanche ha parlato Neanche ha detto Una lettera Eh mia nonna Avrebbe azzeccato A mia nonna Gli piace di odato Barrio di Mahmood No dorato Cazzo Vabbè Mahmood L'ho azzeccato Dai Non ho la mia idea Di chi sia Boh Chi è quello lì Che fa i canzoni spagnole Bad Bunny No Zero Irama Cinque gocce Irama Ercomi Cinque gocce Cinque gocce Questa sera Voglio stare da solo Marco Mengoni E Madame Eh Però sui cantare Sento tutto forte Grazie mille Anna Maria Sabina Anna Maria Icanks 018 Si è subbato Mi sveglia Se l'ho Incollata Al parca Siri Dimmi perché Elodie Non so il titolo Della canzone però Margarita Bevo un'altra Margarita E poi ti dico Che ha finita Eh ultimo Ultimo Boh Tipo Il tuo sorriso Di ultimo Dai quasi Grazie mille Anna Maria Io non ti conosco Zero proprio Zero Non ho la mia idea Di che cazzo tu sia C'è il figlio D'Andra Bocelli Mi conosci Su Yoshi Anche una bugia E ti vorrei amare Ma sbagli Brividi Di Mahmood E Blanco Il tuo nome Fra le stelle Giuseppe Ferreri Ah Noè Minchia Noè Mi ecco mancava O c'era Nell'altra Lista di cantanti Se ce ne hai dato A mamma La nostra Allora I pigmi di tattici Le ari Giovani Wannaby No non posso Dio Giovani Wannaby Ridere Vabbè due 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 punti Ce li portiamo a casa Ah questo è San Giovanni Lady E sarai per sempre La mia lady Na 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 Perché entri in punta Di piedi Na 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 Cinque Allora Due lipa You got me in love again Love again Love again L'ho detto eh L'ho detto cinque Cinque Fare mai più del male Fermo a guardare Eh cazzo Vabbè Due punti Non riconosco questa voce Boh ti dico gazzello A sentimento No Zero Vabbè almeno una parola Come faccio a indovinare il cantante Se neanche sento una parola Ah eh ciao Tre dieci Quanto manca Cinque minuti Vabbè Ma come faccio Fra Ma ti pare normale Vabbè se ciao Dieci volta Come stai bambina Come stai bambina Non lo so Vabbè però Cioè che cazzo Fateli sentire la canzone Ma fra Una parola Me lo vuoi far sentire Una singola parola Vabbè Vabbè Io da un mano come Tata Allora Blanco Eh non mi ricordo il titolo Buccele Fabri fibra Non so cosa E allora Sì Propaganda Propaganda Mane skin Mane skin Boh No Eh che cazzo però Impossibile così Ermal meta Mi sa di Ermal meta Questo Minchia Zuppo e pan bagnato Comunque C'è un 50 e 50 Eh vabbè Eh vabbè Tananai Ma sesso occasionale Ma non è sesso occasionale È sesso occasionale 5 Boh è music quiz Video su youtube Mancano due minuti Vabbè Ma neanche ci provo Ma che cazzo Te devo dire Ecco L'ormal meta Resto in piedi Non guardo Night Ah Shade Oh gli piace Shade a questi Gaia Gaia So che è Gaia Perché parla in portoghese Ma lo stai facendo solo quelli italiani? Sono un attimo sconcertato Scusatemi Mi ha un attimo Scombussolato Non so ovviamente la canzone Ho 92 Ok 200-250 punti Ma chi sei Già Indiscusso Complimenti La coppa è tua Eh io 92 Eh io 92 Ah ma vaffanculo Ma sta a giocare? Deve essere stando e oliata? Ma stai scherzando? Andrò un attimo a pisciare Sono arrabbiata Torno subito Ok Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi vedo che siete lì pronti ad andare un affanculo da un'altra parte. Aspettate due secondi perché domani noi abbiamo come content la reaction a primo appuntamento dalle 21. Abbiamo dalle 19 alle 21 liberi. Cosa vogliamo fare? Cosa vi piacerebbe fare? Posso provare ad organizzare una gioca e serata? Magari una gioca e serata 2v2? O un giochetto horror con gli alert? Anche quello potrebbe essere valido. Giochetto horror con gli alert? O gioca e serata 2v2? Che ne dite? Horror con gli alert? O 2v2? Cioè, moddini? Qualcuno mi può fare un bel sondaggino? Horror con gli alert? Sound? Alert? Ne mettiamo alcuni un po' più paurosi? O giochi e serata 2v2? Sono in live tutta la settimana, tranne venerdì e sabato. Domenica poi, ragazzi, andiamo in Svizzera a fare una bella Irl con Elita e Michelle. Sempre che mi tieno buca o gostino. Non mi sconvolgerebbe. Horror ci sta, dipende che giochi intendi portare. Ma vedo che giochi intendo portare. Magari porto una rassegna, insomma. L'importante in quel caso non sarebbe l'horror, ma sarebbe il fatto che mi fate caccare. In mano con i sound alert. Oh, chat! Votate! È gratis! È mica ve costa! E dai, su! Una volta che voglio sentire la vostra opinione. Una volta che la democrazia può vincere, non soffrite del voto. Pensate come sarebbe stato se il 2 giugno del 46 le donne non avessero votato. Andate a votare. E una volta che vedo un privilegio, usatelo, ragazzi. Allora, horror con i sound alert che mettono paura. Oppure giochi a serata 2v2. Queste sono le opzioni. Scegliete. E alla fine quello che non verrà fatto non è che finirà nell'oblio. Verrà semplicemente fatto un'altra volta, ovviamente. Con calma e tranquillità, ecco. Va bene. Ha vinto horror. Con 18 voti. 19. 20. 21. E basta. Ci fermiamo a 21. Domani, ragazzi. Ma lei verrà ricaricata. Sì, verrà tutto ricaricata. I sui micchetti uncut. Il pupi. 22. Oh. Continua al salto. 23. 23. Volete proprio l'horror con sound alert? Ok. Bomba. Quindi domani sera dalle 19 in live all'infinito. React primo appuntamento horror. Oppure prima horror e poi react primo appuntamento. Ora sento anche Bertha perché è quello che deve fare la reactionina. Quindi ci sentiamo. Va bene, puponi? Oh, ma fatemi vedere chi c'è sta in live. Che vi mando a fare un raidino da qualche parte. Vediamo qual bel pupo si colloca in live in questo momento. Vi mando da Cubo. Vi mando dalla pupa di Cubo. Raid, curo, lili. Oh. Date andare un bacetto a mia madre. Andate a dare un bacetto a mia madre. Mi raccomando. Partecipate al raid. Che veda i punti. Così poi potete fare l'udopatici per le prossime bettine. E spenderli tutti su sto canale. E andare in povertà di punti canale. In povertà di marchi. E dai, almeno a 60. Regà, vi prego. Che mi pare proprio il minimo. Se non vedete il raid, aggiornate la pagina. Arriviamo a 60 spettatori. Facciamo partire il raid per la pupa di Cuboliri. Mia madre, nostra madre, la madre di tutta Twitch Italia. Dai, 5 persone mancano, ragazzi. 5 persone. 5 persone mancano. È il momento di ricaricare la pagina. E unirti a... Fai un raid. Grazie, user, per esserti unito al raid. Oh, dai, unitevi al raid. Unitevi al raid.